Musica Salve a tutti, allora qua possiamo presentarvi Dynamo Academy, appunto che cos'è? Dynamo Academy Impresa Sociale che nasce nel 2010 a sostegno del progetto, quello molto più grande di Dynamo Camp che è sostanzialmente un camp di terapia ricreativa dedicato a bambini affetti da patologie gravi e croniche e onquematologiche che vengono da noi per passare un periodo di vacanza completamente gratuito durante l'estate o comunque i periodi di vacanza scolastica quindi Natale, Pasqua, Carnevale però loro non stanno da noi tutto l'anno quindi ci sono periodi dell'anno in cui la nostra location è vuota e per questo Dynamo Academy appunto utilizza gli spazi, gli stessi spazi di Dynamo Camp che vengono utilizzati per queste vacanze per i ragazzi e in questi spazi appunto si possono fare convention, eventi, team building, aziendali quindi mettiamo a disposizione tutta quella che è la nostra professionalità e la nostra competenza anche nel condurre quelle che sono le attività perché ovviamente ai ragazzi facciamo provare varie esperienze come l'arrampicata, il tiro con l'arco, l'equitazione, piscina ma non solo, anche attività più ludico-ricreative che li fanno mettere alla prova come teatro, clownerie, laboratori artistici e quindi queste attività vengono anche riproposte alle aziende e ai partecipanti, ai congressi che comunque trascorrono da noi un periodo di tempo può essere solitamente un periodo che va da l'una alle tre notti ecco non di più però ecco questo può essere uno svago ma anche un motivo di fare team building all'interno della nostra struttura potete venirci a visitare sul sito www.dynamacademy.org dove potete trovare tutte le informazioni e tutte le nostre offerte Grazie 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 Grazie